allora oggi vediamo come risolvere i problemi del territoriale del 2018 quindi due anni fa che abbiamo fatto il 2019 oggi facciamo il 2018 allora bene oggi cercare di andare un pochino più veloce su quelli più facili per poi spendere più tempo su quelli più difficili perché sono quelli dove c'è da spendere tempo cominciamo parti mojito il cane di monica vuole organizzare una festa con i suoi amici aiutano a scegliere quale invitare e quale escludere in modo da rendere la festa più bella possibile mojito ha n amici ognuno dei quali ha un grado di amicizia a che indica ad i che indica quanto mojito appartiene la sua presenza ovviamente nella lista c'è anche gente c'è anche qualche antipatico e quindi non ha un grado di amicizia che ha un grado di amicizia negativo la bellezza della festa è definita come la somma del grado di amicizia degli invitati quanto può valere al massimo questa somma quindi problema qual è abbiamo dei numeri ok vogliamo prendere un sotto insieme di questi numeri e vogliamo che la somma sia massima beh è veramente banale la soluzione di questo problema è prendere solo i numeri positivi molto semplicemente se ho alcuni amici che posso invitare che mi danno un contributo positivo e altri amici che posso invitare che mi danno un contributo negativo beh invito solo quelli che mi danno un contributo positivo molto semplicemente ma c'è anche un numero massimo di gente che si può invitare no puoi anche invitarli tutti e quindi ovviamente inviti solo puoi invitarne zero puoi invitarli tutti e allora a questo punto inviti solo quelli che che ti danno un contributo positivo mi sono già segnato l'input ok main.cpp il solito il solito include bits std cpp.h using namespace std int main ok e cosa abbiamo abbiamo sempre lo stesso tipo di lettura quindi ci abbiamo leggiamo numero di casi numero di casi di test poi facciamo un ciclo per questo numero di casi di test e poi quindi cosa abbiamo abbiamo il numero di amici che possiamo invitare ok in acc ci metterò la somma dei gradi di amicizia che ho degli amici che sto invitando ok dopo di che mi scorro quindi i valori di amicizia degli amici che posso invitare e dico salviamo questo qua chiamiamo a leggo a e dico che se a è maggiore di zero ok quindi se mi conviene invitarlo se mi aumenta la la felicità del party diciamo allora a cc più uguale a e poi faccio la solita stampa quindi molto semplicemente quello che ho fatto è che appunto invito solo quelli che hanno un grado positivo di amicizia tutti gli altri non l'invito e questo ovviamente è la cosa ottima se non ho alcun tipo di restrizione quindi viene 15.0 vediamo un po' e viene 15.0 allora facciamo richiedi input ok quindi tmp terry party e dà dei numeri va bene e lo salviamo in un file di output come al solito ok e lo inviamo e vediamo se abbiamo dato la soluzione corretta quindi il sorgente e poi l'output e abbiamo fatto il problema ok quindi party era somma i numeri positivi di un vettore era letteralmente questo il problema antivirus il nuovo sistema di gara delle selezioni territoriali funziona alla grande ma Mojito non è così convinto sembra infatti che la nota mascota delle olimpiadi abbia fiutato un virus nascosto fra i file inviati da un partecipante conosciamo la lunghezza del virus e sappiamo che si ripete uguale ugualmente sarebbe nei 4 file che abbiamo ricevuto ma non sappiamo dove aiutaci a individuare il virus i 4 file f1 f2 f3 f4 sono dati input rappresentati come 4 stringhe di lunghezza rispettivamente n1 n2 n3 n4 il virus è una stringa di caratteri v di lunghezza m la lunghezza m è data in input ma non si conosce il contenuto della stringa v del virus sappiamo con certezza che il virus v appare all'interno di tutti i 4 file come sottostringhe di caratteri consecutivi sappiamo inoltre che non ci sono altre sottostringhe consecutive di lunghezza m che si ripetono uguali in tutti i 4 file le posizioni dei caratteri nelle stringhe sono numerate a partire da 0 per ciascuno dei 4 file f2 si trova la posizione in cui è inserito il virus ovvero la posizione dove appare il primo carattere del virus v all'interno della stringa f quindi cosa c'è dato? sappiamo come è fatto l'input qua? dati di input ah ok le lunghezze dei 4 file che ci interessano relativamente e poi m che è la lunghezza del virus quindi abbiamo queste 4 stringhe e vogliamo trovare una sottostringa comune quindi una sequenza contigua di cose di caratteri uguali e comune che si è lunga 4 e vogliamo dare in output gli indici di dove appare ogni string ora sono 4 file sono 4 stringhe ok ogni string è lunga il più 100 ok ma allora direi che possiamo fare la seguente cosa noi sappiamo che questa stringa deve essere lunga 4 ok allora quello che facciamo è che consideriamo cioè che deve essere lunga m in questo caso 4 allora possiamo considerare tutte quante le sottostringhe del lunghe m della prima stringa per ciascuna possiamo andare a controllare se ce n'è uno uguale nella seconda e se ce n'è uno uguale nella seconda poi andiamo a controllare nella terza e così via quindi quello che stiamo facendo è che stiamo controllando tutte le sottostringhe di lunghezza m in ognuna delle stringhe poi per ciascuna controlliamo nelle altre ora facendo così faremo 4 foran i dati praticamente e quello che facciamo è che quindi dobbiamo considerare tutte le sottostringhe di lunghezza segnata ora queste al più sono n ovviamente perché saranno meno di n in realtà sarà meno della lunghezza della stringa le sottostringhe di lunghezza 4 qua dentro sarà meno di n cioè della lunghezza della stringa allora quindi al massimo facciamo n operazioni per ogni stringa per ogni sì facciamo n operazioni per ogni stringa e quindi se facciamo se controlliamo nella prima poi per ciascuna della prima controlliamo nella seconda e per ciascuna della seconda torniamo nella terza e così via ci viene un algoritmo che ci metterà n per n per n per n quindi n alla quarta e n alla quarta e nel massimo 100 ci sta abbastanza tranquillamente dovrebbe metterci relativamente poco magari è stata un pochino convoluta la spiegazione però sono abbastanza convinto che poi è più facile nel codice che non a dir la parole quindi antivirus anzi prima copiamo l'esempio dai e quello che dobbiamo stampare poi è a che indice appare questa sottostringa comune quindi sempre include bits stdcpp.h sempre use in space std sempre int main sempre set stt for set st caso uguale a 1 finché caso minore di t caso più più no non è vero minore uguale a t caso più più e ci metto già anche return 0 allora come è fatto l'input ci sono le lunghezze delle stringhe che sono n1, n2, n3 e n4 quindi prendiamo n1 prendiamo n2 prendiamo n3 e prendiamo n4 e poi c'è m che è la lunghezza della sottostringa che sto cercando e dopodiché ci sono le quattro stringhe chiamiamole abcd ok in cppu esiste il tipo string che non è altro che un vettore di caratteri ok quindi leggo a leggo b leggo c e leggo d ora cosa ho detto che voglio fare voglio considerare tutte quante le sottostringhe di lunghezza m della stringa a ok allora cosa faccio dico for size t chiamiamola i1 uguale a 0 ok quindi i0 sarà il punto di partenza della mia sottostringa cioè i1 sarà il punto di partenza della mia sottostringa inizia da 0 finché i1 è migliore di cosa beh la lunghezza della stringa a è n1 ok e l'ultima sottostringa partirà dalla posizione n1-m perché questa è la posizione 0 e quindi la stringa che parte da 0 lunghe 4 è questa poi c'è questa e poi c'è questa eccetera eccetera quando partirà questa qua beh partirà alla posizione lunghezza cioè 8 meno la lunghezza della stringa totale meno la lunghezza della sottostringa 4 e quindi partirà alla posizione 4 infatti questa è la 4 0 1 2 3 e 4 in questo modo i1 è la partenza e sappiamo che la sottostringa non va oltre la lunghezza della stringa in questo modo i1 più più ok quindi questo è diciamo la stringa che stiamo cercando di testare poi ci chiediamo ma nella seconda sottostringa appare questa nella seconda stringa appare questa sottostringa che abbiamo trovato in A andiamo a controllarle tutte di nuovo per i2 uguale a 0 finché i2 è minore di n2 meno m i2 più più ok allora a questo punto cosa possiamo fare? beh possiamo fare che se possiamo fare che se ma non facciamolo adesso ok potrebbe essere uguale potrebbe essere diverso per ora facciamo finta che non che non ci interessa abbiamo selezionato una sottostringa nella prima una sottostringa nella seconda ora selezioniamo una sottostringa nella terza quindi ancora forse t i3 uguale a 0 finché i3 è minore di n3 meno m i3 più più ok e poi ultima cosa selezioniamo una sottostringa anche nella quarta for i4 uguale a 0 finché i4 è minore di n4 meno m i4 più più ok dentro questi quattro forni dati ora quindi stiamo praticamente facendo tutte le possibili selezioni di sottostringa di lunghezza m in queste quattro stringa quindi l'ultima cosa che ci rimane da fare è controllare se sono uguali ci rimane da controllare solamente se queste stringhe che sono selezionate sono uguali allora come facciamo diciamo che assumiamo che lo siano ok ok è per dirlo sono cosa faccio for sites t j uguale a 0 finché j è minore di m g più quello che sto dicendo è che e ovviamente continuo a controllare solamente finché non ho trovato questo è diverso cosa dico beh sicuramente ok rimane ok solamente se solamente se cosa deve succedere beh che la prima deve essere uguale alla seconda quindi a di i1 più j deve essere uguale a b di i2 più j che sto controllando il jesimo carattere di insomma il jesimo carattere a partire da i1 alla stringa a che è la sottostringa che abbiamo selezionato e in b a partire dai 2 che è l'inizio della sottostringa che abbiamo selezionato ok beh questo controllo dobbiamo fare per a dobbiamo farlo cioè fra a e b dobbiamo farlo fra a e c e dobbiamo farlo tra a e d se tutti sono uguali allora bene abbiamo se tutti sono uguali allora perfetto andiamo avanti quando troviamo carattere per carattere e alla fine quindi in questo caso abbiamo trovato la nostra soluzione in questo caso facciamoci out di case caso ok e gli indici beh saranno proprio i1 i2 i3 i4 i3 abbiamo provato tutte le possibili sottostringhe di tutte le quattro stringhe quando le abbiamo selezionate tutte e quattro controlliamo per ciascuna selezione che siano uguali quelle sottostringhe se lo sono abbiamo trovato la risposta e dovrebbe essere finito così controlliamo se compila ok controlliamo se dà la risposta non dà la risposta quindi potrei averlo puggato ok partiamo benissimo in tal caso allora non c'è nulla di ovvio che potrei star sbagliando quindi va un attimo a sbagliare a volte anche cose talmente semplici possono essere non banalissime da vedere allora intanto la soluzione qua credo che sia la sottostringhe che sia asso perché c'è ananasso associazione tassonomia e massone quindi la soluzione sarà asso e tra l'altro sarà 4 0 1 1 allora la prima cosa che possiamo fare è stampare i valori di i 1 i 2 i 3 e i 4 così almeno vediamo se sta veramente iterando o se sta facendo finta allora questo era palesemente il secondo il secondo che è più corto e noi ci interessa il primo eccolo qua abbiamo detto che la soluzione deve essere 4 ok potrei aver sbagliato a fare il conto perché perché se la lunghezza è 1 ad esempio allora l'ultimo punto di partenza era beh lo stesso di prima sì quindi questi qua cioè quello che l'unica cosa che ho sbagliato è che questi qua non sono minori ma sono minori uguali c'era quello che si chiama un off by one vediamo se era solo lui il problema sì ok il punto era che bisogna cioè avevo fatto c'era un non era un minore non era un minore non era un minore uguale perché qua se la lunghezza è 4 e della sottostringa la lunghezza complessiva è 8 l'ultima posizione deve essere la 4 allora vuol dire che deve essere finché è minore uguale a 4 e non minore di 4 perché faccio 8 meno 4 e deve essere minore uguale a 4 non minore ok siamo pronti per farlo girare quindi scarica input andiamo in antivirus ok alla fine comunque nel senso questa qua è una cosa abbastanza banale sono venute cioè alla fine sono 5 forn di dati ok sono un'ultima trentina di righe non è così complicato no e si chiamava antivirus ok salviamo l'output ci mette qualche secondo ma va bene anzi ci avrà messo un secondo comunque proviamo a inviarlo e vediamo cosa ci dice ok ok non gli piace particolarmente questa cosa a quanto pare per la prima volta ah no come non detto abbiamo preso punteggio pieno si ha dato dei warning ma abbiamo preso punteggio pieno ok perfetto bene ora che abbiamo fatto due problemi semplici possiamo spendere un pochino più di tempo sui problemi più complicati fino a qua ci sono osservazioni domande datemi un cenno di vita no no io ho capito perfetto perfetto ok quindi questi due problemi erano banalotti adesso vediamo quelli un pochino più cicciosi allora leggiamo il terzo è stato appena ritrovato un fossile della rarissima specie Canis mochitus albus ritenuta antenata del più comune Canis mochitus familiaris per analizzarlo gli scienziati devono trattarlo con delle radiazioni ogni centimetro dell'osso deve riceverne una quantità precisa la macchina che fa il trattamento può applicare radiazioni in modo uniforme su un qualunque segmento contiguo calcola quante volte deve essere azionata la macchina per ottenere la giusta quantità di radiazioni su ogni punto dell'osso l'osso da trattare lungo n centimetri numerati da 1 a n il centimetro i deve ricevere una quantità di radiazioni specificata da un numero naturale rd il numero n di numero rd rdn sono dati in input la macchina viene azionata specificando due numeri interi positivi a e b che indicano gli estremi del segmento di osso su cui la macchina opera dopo tal azionamento tutti i centimetri da e b dell'osso accumulano una unità di radiazione dopo aver azionato la macchina un certo numero di volte la quantità di radiazioni ricevute sul centimetro i si può conoscere contando quante volte una radiazione ha operato su quella zona ovvero quante volte la macchina è stata azionata con valori tali per cui a minore o uguale di minore o uguale di b calcola il numero minimo di volte su cui è necessario azionare la macchina affinché ciascuna zona i riceva esattamente la quantità di radiazione richiesta rd e n1000 r1000 allora il problema cosa ci sta dicendo sta dicendo guarda io ho un vettore di numeri praticamente tipo che ne so 3 1 5 4 2 ok e io voglio e tu puoi fare questa azione prendi un segmento tipo che ne so questo ok prendi una sottosequenza contigua del vettore e puoi passare tutti quanti gli elementi di 1 quindi che so questo diventa 4 questo diventa 3 e questo diventa 1 poi puoi farlo di nuovo e di nuovo e di nuovo e di nuovo ok la cosa che voglio è che alla fine tutti siano esattamente 0 ok e quindi non vuoi mai che ad un momento tipo se lo applico per esempio qua ok questo diventa 2 0 non posso più applicarlo di nuovo qua su questo sottopezzo perché questo qua andrebbe meno 1 e poi non posso mai più ritirarlo su perché posso solo abbassarli non posso alzarli credo che il problema fosse al contrario cioè che da 0 dovevate alzarli però vedete che è equivalente nel senso e quindi dato dato il problema trovare qual è il numero minimo di volte che devo fare quest'operazione di abbassamento di un range per abbassare tutte a 0 il problema è chiaro? si ok tipo una soluzione che è corretta ma non è ottimale cioè che trova un abbassamento corretto ma che non è ottimale è per esempio abbassare questo di 3 abbassare questo di 1 abbassare questo di 5 abbassare questo di 4 e abbassare questo di 2 ok? questa cosa è corretta perché vanno tutti a 0 però non è ottimale perché stiamo non stiamo sfruttando il poter fare range più grossi di 1 allora qua la prima cosa che a me viene in mente come io l'ho risolto all'epoca quando me l'hanno proposto è la ricorsione la buon cara vecchia ricorsione e la mia domanda è qual è un caso base di questa cosa? che secondo me un caso base è che se ho un solo elemento ok? se il mio vettore fosse formato da un solo elemento beh non posso fare altro che abbassare lui di x volte ok? credo che sia abbastanza ragionevole come cosa se io ho un solo elemento l'unica cosa che posso fare per ottenere una risposta corretta è abbassarlo di lui di x volte ok? fino a qua mi pare abbastanza ragionevole la cosa ma allora quale può essere il passo generale di questa ricorsione? che se io quindi ho un numero di elementi che è maggiore di 1 ok? ho più di un elemento io cosa posso fare? io so che questo qua ok? per forza di cose dovrà essere abbassato una volta non può essere abbassato più volte questo qua dovrà essere abbassato 4 volte e così via per ciascuno ovviamente ma allora io cerco se io cerco qual è il più alto numero di volte che posso abbassarli tutti insieme ok? perché io so che lui deve essere abbassato 4 volte lui 5 lui 2 e lui 3 ok? ma allora se io cerco qual è il più alto numero di abbassamento che posso fare su tutti quanti in modo che nessuno va a meno 1 ok? e però in questo modo sto quindi cercando di utilizzare un abbassamento per più cose possibili beh allora sicuramente è un'azione ottima che posso fare perché li sto abbassando tutti in un colpo solo quindi sicuramente non è un'operazione subottima perché li sto letteralmente abbassando tutti quelli che posso abbassare ma allora cosa posso fare? prendo il minimo ok? il minimo in questo caso è 1 e allora quello che posso fare è abbassarli tutti di 1 e questa scelta per forza di cosa deve essere ottima perché cavolo li sto abbassando tutti non posso fare una cosa migliore di questa allora li abbasso tutti di tante volte quanto è il minimo perché è il massimo che li posso abbassare senza perdere l'assunzione di ottimalità e otterrò un altro vettore adesso l'osservazione è che nel vettore che ottengo ci deve essere per forza 1,0 almeno 1,0 1,0 ci deve essere per forza nel vettore che ottengo perché? beh perché quello che era il minimo l'ho abbassato di numero di volte uguale a lui ok? e quindi dovrà essere andato a 0 ma allora ma allora adesso il problema è come se avessimo due vettori cioè abbiamo ridotto il problema fare una scelta ottima abbassare tutti quanti di tante volte quanto era il minimo ok? e adesso cosa abbiamo? abbiamo un vettore che ha uno 0 dentro ma allora non ci potrà essere nessun abbassamento che passa attraverso di lui perché lui andrebbe a meno 1 e quindi vuol dire che abbiamo appena ridotto il problema a un problema più semplice perché ora abbiamo due pezzi abbiamo i due pezzi sinistra e destra di questo vettore che però sono più piccoli e quindi possiamo applicare ricorsivamente questa strategia è chiaro il concetto? avete domande? no il concetto è chiaro no sì cioè il fatto è che perché questa cosa funziona cioè perché questa cosa è corretta perché questa cosa trova l'ottimo perché sicuramente se li posso abbassare tutti è una scelta ottima perché cavoli non posso fare meglio di così li sto abbassando tutti in un colpo e meglio di così non posso fare una volta che ho fatto questa scelta ottima ora non potrò mai più fare una mossa che passa sopra a questo zero ok sicuramente non ho sbagliato niente in passato perché ho fatto solo scelte ottime allora adesso posso ridurre il problema a gestire la parte sinistra e gestire la parte destra cioè ricorrere sulla parte sinistra e ricorrere sulla parte destra bene let's do it facciamolo allora cosa facciamo quindi intanto creiamo la cartella questo problema si chiama x-ray poi copiamo l'input che è questo qua lui ci chiede il numero minimo di volte che dobbiamo farlo e quindi quello lì dobbiamo andare e scriviamo la soluzione devo dire che questo problema 3 c'è questo problema che era il terzo problema del 2018 era parecchio più semplice del terzo problema del 2019 infatti è molto più lineare la soluzione sarà molto più autocontenuta e quindi bene insomma allora abbiamo il solito size tt prendiamo questi qua for size t caso uguale a 1 finché caso meno uguale a t caso più più e mettiamo già anche il return 0 ok che facciamo come è fatto l'input l'input è vettore normalissimo quindi size t n e poi abbiamo un vector di int v ok che sappiamo essere lungo n quindi metto la dimensione statica e poi leggo gli elementi quindi per i da 0 a n faccio cin in vd e con questo ho letto il vettore quello che vogliamo fare adesso è una procedura ricorsiva che ci permette di trovare la soluzione quindi vogliamo fare una certa int f una certa funzione che ritorna un intero che è il numero minimo di volta che abbiamo dovuto abbassare che cosa prende beh prenderà sicuramente il vettore dei pesi chiamiamolo p questo sicuramente lo prende il fatto è che poi noi dovremmo fare le operazioni di come si chiamano dobbiamo fare le operazioni di di taglio cioè dovremo dov'è la lavagna qua dovremo ricorrere poi su un pezzo un altro pezzo del vettore quando si fa queste cose allora un modo per per farlo uno dei modi per farlo ce ne sono di più è tenere anche farci passare start ovvero da dove parte il pezzo che stiamo considerando adesso e size ovvero quanto è lungo è una parametrizazione per dire guarda che sto considerando questo sottopezzo del vettore quindi se diamo degli indici quindi 0 1 2 3 4 ad esempio tutto il vettore sarà quello con start start uguale 0 e size uguale 5 ok perché parte da 0 e lungo 5 quindi se per esempio volessi fare solo questo sottopezzo del vettore questo qua è quello identificato da start uguale 2 e size uguale 2 perché parte da 2 e ha due elementi ok quindi ci teniamo queste cose e a questo punto sappiamo già che la risposta quindi sarà sarà f di 0 n v perché sarà quello su tutto quanto il vettore che è quello che parte da 0 arriva fino a cioè lungo a n cioè lungo tutto ed è b bene allora cosa dobbiamo fare prima cosa caso base caso base qual è facciamone due di casi base facciamo che intanto se la dimensione è 0 ok se se il il vettore è vuoto beh allora la risposta è palesemente 0 ok direi che è abbastanza lineare poi se la dimensione è 1 ok quindi se il nostro sotto vettore è lungo 1 beh allora abbiamo detto che era il caso base in cui per forza di cose dobbiamo diminuirlo elemento volte allora quindi ricordiamoci che noi dobbiamo dire qual è il numero di volte che dobbiamo fare l'operazione beh sarà v di start perché il vettore è lungo 1 inizia start e quindi ovviamente la risposta sarà v di start ok il caso generale qual è il caso generale è che vogliamo trovare il minimo ok fare su tutto quanto il range quel numero di volte l'operazione e poi ricorrere sulla parte sinistra e sulla parte destra facciamolo quindi diciamo assumiamo che il minimum ok sia start partiamo con questa assunzione dopodiché allora faccio che for 60 facciamo dai facciamo int i uguale a start più 1 perché start è quello che sto già assumendo che sia il minimo finché i è minore di start più sides ok quindi quel sotto pezzo del vettore i più più e dico che se v di è minore di v di minimum beh allora v di è il minimo quindi dico che il minimum è i e in questo modo quindi ho semplicemente trovato il come si chiama il inizio del minore ok ora quindi voglio sapere qual è il valore di questo minimo beh il valore sarà v di minimum minimum è l'indice di dove si trova il minore in value ci metto quel valore il prossimo step abbiamo detto che voglio diminuire tutto di quella cioè voglio diminuire tutto quanto questo numero di volte ma quindi cosa faccio semplicemente itero su quel pezzo del vettore quindi for int i uguale start finché i è minore di start più sides i più più quindi itero su tutto questo sottopezzo del vettore e per ogni elemento faccio che lo sottraggo gli sottraggo value che è il minimo di quel range in modo che quindi appaia lo zero in posizione minimum bene a questo punto cosa faccio devo ricorrere sulle due parti quindi la risposta sarà return di devo chiamare f sulla parte sinistra dovrò chiamare f sulla parte destra e poi questa cosa si somma beh value che è quante volte ho diminuito tutto quel range ma se ci sono più minimi come si fa se ci sono più minimi questa è un'ottima osservazione cosa succederà che si forma non uno zero ma se ne forma più di uno potremmo avere una situazione tipo che ne so 3 0 2 0 1 3 ok si potrebbe formare più di uno zero mettiamo che il minimo che abbiamo trovato era questo cosa succederà poi sull'altro vettore il minimo sarà zero e quindi si spezzerà ancora due volte e value sarà zero esattamente si esattamente se appare più di uno zero poi naturalmente si spezza dall'altra parte allora la parte sinistra sicuramente parte a start ok dove finisce non dove finisce perdono quanto è lunga vediamo perché questi sono i pezzi dove ci si confonde tipo mettiamo che avevamo tutto quanto abbiamo trovato che questo era il minimo quindi uno quindi cosa sarà sarà la lunghezza sarà minimum meno start dovrebbe essere minimum meno start perché perché è la distanza tra dove abbiamo trovato il minimo e l'inizio è la dimensione del sotto vettore sinistro minimum meno start la parte destra invece da dove partirà beh partirà da minimum più uno ok se abbiamo trovato l'uno la parte destra partirà da due e la dimensione cosa sarà beh sarà la dimensione originale ok quindi cinque meno la posizione meno la posizione di partenza fondamentalmente la posizione di partenza è abbiamo detto minimum più uno chiamiamolo m quindi sarà cinque meno questo più uno e quindi sarà quindi sarà la dimensione totale meno minimum meno uno perché sarà quindi la dimensione totale meno la posizione di partenza e quindi sarà size meno minimum meno uno ma le parentesi diventa meno minimum meno uno ma qui gli estremi sono compresi o no? non ho estremi ho start e size delle le funzioni che chiami quando cioè start e size ah ok è vero no no non ho estremi ho start che è dove parte e size che è quanto è lungo ok va bene sì e quindi beh la parte sinistra partirà da start e sarà lunga posizione del minimo meno start perché per fare la lunghezza di un vettore devi fare da dove finisci meno dove parte e qua stessa cosa parte da minimum più uno perché parte da quello dopo e poi è size meno la partenza ma cioè ho levato le tonde qua ho fatto meno meno perché sarebbe meno aperta tonda minimum più uno levo le tonde ed è meno minimum meno uno capito ok vediamo se compila non compila ok ah ok certo non compila perché gli manca v ovviamente ricordatevi quando passate i vettori alle funzioni sempre 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 metterla in commerciale perché vuol dire non copiarlo ma usa quello originale perché se no ve lo copio ogni volta e poi ovviamente vuol dire che ogni volta stai facendo una copia di tutto quanto il vettore che non volete farlo volete usare lo stesso vettore ok vediamo se adesso compila compila proviamo a eseguirlo ah e ci dice bedalloc quindi abbiamo sbagliato qualcosa beh abbiamo sbagliato che non stiamo leggendo n questo potrebbe essere un problema ancora meglio error di segmentazione ok e mo si debugga come al solito allora la prima cosa che potremmo fare ad esempio è stampare tutte quante le chiamate per vedere se c'è qualcosa di bizzarro quindi stampo start e stampo sites ok così almeno vediamo le chiamate questo qua è un modo utile anche per vedere come si debugga debuggare normalmente allora notiamo che sta facendo molte più chiamate di quello che ci aspettiamo cosa è successo? perché ad una certa ha chiamato con una sites negativa ok e questo non è bene questo palesemente non è una cosa buona vuol dire che abbiamo sbagliato qualche calcolo probabilmente stiamo c'è qualcosa che ci sfugge allora cos'è che ci sfugge? ah ok forse ho trovato cosa ci sfugge allora questa qua è corretta ok perché start è due parti e minimum meno start è la dimensione il fatto è che il calcolo della lunghezza è posizione di fine meno posizione di inizio ma la posizione di fine non è sites è start più sites la posizione dove finisce sto vettore non è sites sites è la lunghezza è start più sites la posizione dove finisce e per calcolare la lunghezza di un vettore è posizione di fine meno posizione di inizio e quindi c'eravamo dimenticati sto start sono abbastanza convinto fosse questo cancello il debug e ora ci da 3 e 101 vediamo se è la risposta giusta 3 e 101 ok proviamoci quindi è xray xray ci da delle risposte che paiono sensate ok proviamo a caricarlo e vediamo cosa ci dice questo è xray main cpp output 19 su 19 era la risposta corretta ok bene il primo inter l'abbiamo fatti fino a qua c'è una domanda no io non ho più ok fino a qua direi che è tutto abbastanza chiaro al fine anche questa soluzione è bella corta è una ricorsione però è bella corta ok ultimo problema questo era quello più difficilino escursione fatemi creare la cartella e lo leggiamo allora mojito vuole pianificare un'escursione sulle colline di volterra ha a disposizione una mappa rettangolare il cui è indicata l'altitudine della zona mojito vuole fare un percorso che parte dall'angolo in alto a sinistra della mappa e raggiunge l'angolo in basso a destra in modo tale che il dislivello massimo che è costretto a fare ad ogni spostamento sia il minimo possibile aiuta mojito a calcolare questo dislivello la mappa è una tabella di numeri interi ciascuno esprime l'altitudine in metri nel corrispondente punto della mappa la tabella è composta di h righe e v colonne numerate rispettivamente da 1 a h e da 1 a v nella cella di coordinate ij ovvero in corrispondenza della riga i del colono j è indicato il valore dell'altitudine a di ij mojito inizia l'escursione dalla cella di coordinate 1 a 1 in alto a sinistra ed arriva alla cella di coordinate hv in basso a destra ogni minuto si sposta di esattamente una cella in una delle quattro possibili direzioni non può però uscire dalla mappa le direzioni o in alto in basso a destra a sinistra stabilito un percorso lungo la mappa il pericolo associato a quel percorso è il massimo dislivello tra due celle consecutive lungo il percorso ovvero la differenza di altitudine fra le due celle consecutive non cambia nulla se lo spostamento inserito in discesa calcola il pericolo minimo fra tutti i percorsi possibili che partono dalla cella 1 a 1 e arrivano alla cella hv quindi cosa ci sta dicendo il problema? il problema ci sta dicendo guarda ti do una griglia quindi che so 3 2 7 una griglia di numeri 1 12 11 11 11 8 5 4 7 20 e 17 questa è una griglia e sta dicendo guarda partiamo dall'angolo in alto a sinistra e voglio arrivare nell'angolo in alto a destra e mi posso spostare solamente in basso in alto a destra a sinistra senza uscire dalla griglia ogni volta che faccio un passo tipo adesso vado di qua io so che a fare questo passo ho una pericolosità data dalla differenza assoluta tra questi due valori quindi in questo caso 1 ok se faccio questo passo ho una pericolosità di 5 perché è la differenza assoluta se faccio questo passo ho una pericolosità di quant'è? 6 ok e così via ora io voglio trovare il percorso che minimizza la pericolosità massima di quel percorso quindi io faccio un percorso ok ho tutte le varie pericolosità e quindi prendo il massimo la pericolosità di un percorso dato dal massimo delle pericolosità che fa cioè di quel percorso là io voglio minimizzarla voglio trovare fra tutti i percorsi che arrivano alla fine voglio minimizzare la pericolosità massima abbastanza chiaro il problema? ok ok bene allora vediamo intanto l'assunzione l'altitudine è bella alta perché è un milione e la mappa è 100% ok quindi è grandina allora ovviamente non possiamo non possiamo provarli tutti palesemente perché sono un numero esponenziale e non usciamo più saranno una cosa come 2 alla 100.000 percorsi anzi in realtà la questione è ancora peggio la questione è molto brutta perché se il problema fosse stato che non cioè il problema dice puoi andare in alto in basso a destra a sinistra ora se il problema fosse stato che puoi andare solo a destra e in basso ok quindi sto semplificando il problema non è basso alto destra sinistra è solo basso a destra puoi andare solo in basso solo a destra vi viene in mente un problema che abbiamo già visto che è praticamente uguale c'è una tecnica che abbiamo già visto che risolverebbe questo problema in men che non si dica vi ricordate un problema dove stavamo cercando di calcolare i percorsi in una griglia so che sono eoni fa però quando abbiamo fatto la programmazione dinamica avevamo fatto un problema dove calcolavamo i numeri di percorsi sulla griglia ora se voi quel problema cambiate la funzione somma con la funzione max ok cioè cercate quindi di minimizzare il massimo beh è proprio questo problema viene esattamente questo problema peccato però che non possiamo andare solo a destra in basso possiamo andare anche in alto a sinistra e questa cosa non ci va bene perché con la programmazione dinamica ci cozza perché non c'è un ordinamento su come facciamo le operazioni quindi non è un problema di programmazione dinamica questo qua in realtà questo qua è un problema che combina due tecniche dovremmo combinare due tecniche per trovare la risposta la prima cosa che vi chiedo è questa il primo punto è questo ma se noi noi vogliamo fissare ok noi fissiamo che la pericolosità massima non deve essere maggiore di k ok noi vogliamo semplifico il problema ok non voglio trovare il minimo voglio solo trovarne uno qualunque dove la pericolosità sia al massimo k ok avete idee per questo problema semplificato quindi il problema semplificato è voglio trovare un qualunque percorso anzi magari non lo voglio neanche trovare voglio dire se esiste un percorso che ha pericolosità al massimo k ho un modo di dirlo proviamo a ragionarci insieme a qualcuno stefano c allora dovrei cercare se esiste un percorso tra tre e quattro pensando come se tutti i valori della griglia fossero nodi e magari le frecce sono archi pesati dove il peso è la differenza e però sono archi pesati solo quelli che pesano meno di k e quindi se uno pesa più di k non lo considero ok perfetto e una volta che hai creato questo grafo quindi come fai a dire se esiste un percorso tra tre e quattro beh basta vedere se è una come si chiama una sotto insieme connesso se sono nella stessa componente connessa si esatto se il nodo di partenza è il nodo d'arrivo sono la stessa componente connessa esattamente quindi ripeto perfetto per sapere se esiste un percorso che ha pericolosità al massimo k ok non ci interessa che ci interessa non ci interessa minimizzare ci interessa solo che abbia pericolosità minore o uguale a k cosa posso fare beh posso dire guarda mettiamo che k sia uguale a tre ad esempio cosa faccio tutti quanti quindi faccio un grafo dove gli archi sono tutti quanti le le connessioni sulla griglia ok e cancello tutti quanti gli archi che corrispondono a un peso maggiore di tre quindi questo lo levo facciamo il rosso questo lo levo questo lo levo anche questo qua lo leverò e così via e così via questo qua lo leverò eccetera eccetera a questo punto per vedere se c'è un percorso ora tutti i percorsi esistenti devono avere pericolosità al massimo k e per vedere se esiste un percorso che va dall'inizio alla fine posso fare una qualunque tipo di visita faccio o una bfs o una dfs a partire dal nodo iniziale e guardo se riesco a raggiungere il nodo d'arrivo e con questo so se il e con questo so se ci posso arrivare o no bene 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 ora ma se abbiamo questa procedura quindi ora abbiamo una certa funzione ok una certa f di k ok che ci dice sì o no se esiste un percorso che ha pericolosità al massimo k ok abbiamo questa funzione f di k ma se abbiamo questa funzione f di k non possiamo non abbiamo un modo di chiamarla o di chiamarla anche più volte per trovare la soluzione del problema beh se la chiamiamo da uno in su appena appena si trova il percorso il percorso sarà la soluzione perfetto cioè il fatto qual è qual è l'osservazione che se noi chiamiamo f di meno uno per dire ok beh sappiamo che ovviamente questa cosa dà la false perché leva tutti quanti gli archi ovviamente poi cosa facciamo beh allora chiamiamo f di zero ok f di zero potrebbe dare true potrebbe dare false beh f di zero darà true solamente se esiste un percorso di nodi tutti uguali che arriva in fondo perché tutti gli altri archi saranno levati mettiamo che dia false allora poi chiamiamo f di uno e darà false e chiamiamo un po' di roba arriveremo una certa f di h che darà true quindi f di h è la prima che dà true beh ma allora h è la risposta h è la pericolosità minima che ci serve per arrivare in fondo benissimo questa è una soluzione corretta però c'è un problema c'è il problema che gli a cioè i valori quindi gli h che dobbiamo provare potenzialmente vanno da cioè sono un milione e la visita già ci costa tanto ci costa 100% perché il numero di nodi è 100% quindi ci costa 10 alla alla quarta questo qua è 10 alla sesta ok 10 alla sesta per 10 alla quarta fa 10 alla 10 ed è troppo ci mettiamo per carità si magari in gara ce la fai o è tipo te ne trova una ogni 2-3 minuti una roba una roba del genere credo no anche di più forse addirittura una ogni 10 minuti è la peggio comunque è lenta il problema è che sta soluzione è corretta ma è lenta c'è un'osservazione chiave di una qualche altra tecnica che abbiamo visto che possiamo utilizzare per migliorare sta soluzione perché f di allora abbiamo detto f di meno 1 ovviamente da false f di 0 beh darà o false o true potrebbe dare entrambi non lo sappiamo ok f di 1 ancora potrebbe dare false o true eccetera f di h abbiamo detto che darà true domanda per voi f di h più 1 sappiamo che risposta darà? darà true perché? allora k cos'è il valore ok il pericolo massimo che si può affrontare e quindi se f di h da true allora anche f di h più 1 da true perché si cancellano ancora meno archi quindi quelli lì che portano dalla prima casella all'ultima casella sicuramente non si cancellano esattamente cioè il fatto che il percorso che ha trovato in f di h beh cavolo esisterà anche in f di h più 1 esisterà anche in f di h più 2 ed esisterà in tutti quanti cioè nel senso h poi c'è qualunque valore maggiore di h darà true ok ma sta funzione non si comporta in un modo un po' particolare quindi? ma potremmo provare una specie di binary search non una specie potremmo provare proprio una binary search perché sta funzione darà 0 a partire da meno 1 quindi se partiamo da meno 1 questa funzione darà false 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 finché non arriverà ad un certo punto dove darà 1 che è al valore h che è la risposta ok e poi darà per sempre 1 ma questa è proprio la definizione del tipo di funzione dove possiamo fare una binary search quindi se facciamo una binary search nel range da meno 1 a un valore per cui sicuramente esiste può essere ad esempio 10 alla sesta più 1 ok perché i valori al massimo sono 10 alla sesta io valore al massimo sono 10 alla sesta e quindi 10 alla sesta più 1 ha tutti quanti gli archi quindi per forza di cosa devi esistere un percorso ok se noi facciamo una binary search con estremi meno 1 e 10 alla sesta più 1 ok beh cavoli per forza h deve essere qua in mezzo ma allora possiamo fare proprio la binary search e quanto ci costa questa binary search la binary search ci costa logaritmo di del range ma il range quant'è quindi è chiamiamo diamo un nome a questa cosa qua la chiamiamo a maiuscola ok e chiamiamo n il numero di il numero di nodi ok quindi il numero di celle nella griglia ma allora noi possiamo fare una binary search dove la nostra funzione f della binary search però è una ricerca su grafo è una bfs una bfs quindi la comprensità computazionale sarà o grande di il costo della f che quindi è una bfs quindi ci metterà n più m però in questo caso diciamo solo n tanto il numero di a che è 4 volte il numero di nodi e quindi lo grande se lo cancella via e per ogni volta che cioè quante volte dovremmo chiamare questa funzione che costa n beh dovremmo chiamarla logaritmo di a volte perché è il numero di step della binary search cioè la binary search ci metterà il logaritmo della grandezza del range la grandezza del range è uno grande di a ok quindi è il logaritmo di a e che era la soluzione ci sono domande fatemela mi raccomando no direi che per me va bene ok anche per anche per per tutti gli stefani no si si ho capito no è che più che altro sto seguendo dal telefono quindi ah ok ho il tasto push talk sulla scritta in basso non l'avevo bene ho dovuto fare spostamenti però ho capito sì sì perfetto ok vedete che cioè non a caso nel 2018 ci sono state una marea di full score e invece l'anno scorso ce n'è stato solo uno perché l'anno scorso erano più difficili effettivamente i problemi ok non ci rimane che scriverlo non ci rimane che scrivere che scriverlo ok allora cominciamo con quindi questo problema è carino perché mette insieme due cose la le componenti connesse su grafo dovremmo controllare solo se il nodo iniziale e il nodo finale sono nella stessa componente connessa e mette insieme la banale di search quindi questa qua è un caso di due tecniche messe insieme per risolvere il problema ok allora include bits std cpp.h using namespace std come al solito ok anche qua solito size t c in t for size t caso uguale a 1 finché caso meno uguale a t caso più più ok e poi ritorno a 0 perfetto allora com'è fatto sto input vediamo com'è fatto sto input allora ah ok numero di righe numero di colonne allora chiamiamo il numero di colonne calls e il numero di righe rows così non ci possiamo sbagliare quindi calls e rows ok prima da rows e poi da calls vediamo se l'ho fatto giusto e l'ho fatto sbagliato prima da rows e poi da calls perché vedete che l'ultimo è 1,10 1 il numero di righe e 10 il numero di colonne perfetto e dopodiché dalla matrice segniamoci la sta matrice allora sarà un vector di vector di int facciamo ok chiamiamola m e cosa sarà sarà una matrice rows ok per per calls questo vi ripeto è come si dichiarano le matrici in cbq quindi sarà rows per calls e dopodiché l'ultima cosa che c'è rimane da fare è leggerla quindi for sites di j uguale a 0 finché j minore di calls j di più ok e lo leggiamo quindi in m di i j e con questo abbiamo letto l'input ok perfetto cosa vogliamo fare adesso vogliamo fare vogliamo fare una funzione quindi che dato un certo valore di k quindi voglio fare un percorso che è pericoloso al massimo k ci restituisce un booleano ci dice true or false se il percorso esiste o no ok vogliamo fare quella quella funzione là allora come facciamo possiamo fare una dfs o una bfs possiamo facciamo una dfs dai facciamo una dfs quindi la dfs questo dovrà avere dovrà avere il nodo quindi il nodo qua è identificato da una riga e una colonna quindi lo chiamo int row e int call ok gli servirà sapere qual è questo valore di k ok e poi gli servirà avere anche il servirà avere la lista dei valori ok e la lista dei visitati cioè la dfs vi ricordate che ha bisogno del vettore dei visitati gli servirà anche m per determinare se un certo arco esiste o no mentre sta facendo la dfs perfetto quindi assumiamo di avere quella funzione dfs poi la facciamo quindi to do ok e cosa facciamo beh dobbiamo fare quindi una binary search che chiama quella dfs e cosa fa questa binary search ricordiamoci che la binary search ha un low che è quindi qualcosa di talmente piccolo che la risposta è false e un high che è qualcosa di talmente grosso che la risposta è true che abbiamo detto che ad esempio può essere 10 alla 10 alla sesta più 1 ok perché per forza di cose la differenza sarà un po' grossa quindi 1 seguito da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 con 1 alla fine ok e cosa diciamo while low minore di high ok solito pattern della binary search dobbiamo trovare la risposta ora per trovare la risposta dobbiamo ogni volta fare la dfs l'unica cosa che dobbiamo fare da fuori e che dobbiamo inizializzare il vettore divisited con una matrice di false in modo che possiamo passare alla dfs quindi ogni volta inizializziamo una matrice di false se non mettiamo niente intendiamo false cioè default inizializza false in modo da passare alla dfs quindi bool doable diciamo che si può fare ok ci chiediamo se si può ancora prima dobbiamo calcolare il valore dell'h che si sta intestando quello che chiamiamo mid di solito quindi mid sarà uguale allo più high diviso 2 ok ora ci chiediamo doable si può fare beh allora chiamiamo dfs di 0 0 noi usiamo coordinate 0 based 0 0 l'angolo in alto sinistra come k usiamo mid come visited passiamo visited e come m passiamo m ok e cosa diciamo beh se è doable se si può fare tra l'altro a questo punto scusatemi ma doable non serve posso mettere direttamente if chiamata la funzione ok allora se si può fare allora cosa vuol dire vuol dire che high deve essere mid ricordiamoci che high è il più piccolo valore che abbiamo trovato finora che da true ok mid ha dato true allora high lo settiamo mid altrimenti vuol dire che mid non si può fare allora cosa facciamo settiamo low a mid ricordiamoci che low è il più grande valore che non si può fare allora se mid non si può fare aggiorniamo low a mid alla fine di questa binary search noi stiamo cercando il più piccolo che si può fare che è la definizione di high alla fine nel box da 2 della binary search e la risposta quindi sarà caso la risposta sarà high ok quindi abbiamo già scritto la binary search assumendo di aver fatto la dfs ci manca solo di fare la dfs quindi come funzionerà questa dfs allora beh è una ricorsione come tutte le altre ricorsioni ha un caso base il caso base è che se la il caso base è che se la come si chiama se la riga è uguale a il numero di righe meno uno quindi il numero di righe sarà m.sides meno uno cioè sto facendo il controllo per vedere se sono nell'ultima cella se ruo è uguale m.sides meno uno e col è uguale a m.sides perdono m di zero appunto sites meno uno ok m.sides meno uno alla fine m.sides è esattamente rows e m di zero sites è esattamente calls quindi sto controllando di essere nell'ultima cella in questo modo quindi se ci sono riuscito ad arrivare beh allora ho fatto return true perfetto questo è il caso base ok caso non base caso generale quello che devo fare è provare a spostarmi nelle quattro direzioni e controllare se una di queste direzioni mi porta ad arrivare in fondo allora cosa faccio allora magari diamo dei nomi facciamo che chiamo proprio questo qua rows m.sides così poi è più più comprensibile rows è il numero di righe e chiamiamo calls m di zero punto sites ok così almeno risulta leggermente più comprensibile perfetto quindi caso base è fatto ora bool ok uguale false io ho su modi default che non posso farlo ok che non ho modo di arrivarci ah tra l'altro se ci sono entrato ok facciamo che questo qua l'ho visitato quindi visited di row di call uguale tu ok questo qua vuol dire guarda che l'ho visitato perfetto allora ora cosa devo fare devo provare a spostare in alto a sinistra in basso e a destra non sempre posso fare queste mosse ad esempio posso stare a sinistra solamente se la colonna è maggiore di 0 perché sennò andrei fuori quindi se col è maggiore di 0 quindi solo se non sono nell'estremo sinistro perché sennò non posso spostarmi a sinistra se col è maggiore di 0 e e questa è la parte invece del problema se la differenza assoluta di cosa di m di row col meno m di row col meno 1 quindi se la differenza assoluta tra la posizione dove mi trovo io e la posizione a sinistra è minore uguale a k ok quindi questa è la condizione per cui mi posso spostare a sinistra se vale questa condizione quindi se mi posso spostare a sinistra e se l'arco esiste e l'arco esiste solo se è minore uguale a k se la differenza assoluta di quello di valore è minore uguale a k in questo caso allora ah tra l'altro c'è un'altra condizione se questo se quello e se non l'ho già visitato ok sì se non l'ho già visitato perché se non l'ho già visitato è un tipo di vista quindi if not visited row col meno uno ok in questa condizione allora dico che ok è ok or dfs di row col meno uno k visited m ok ricapitoliamo quindi il caso dello spostarmi a sinistra allora se posso andare a sinistra proprio fisicamente cioè se ho una cella a sinistra se la la come si chiama se la cella se se la differenza assoluta tra le due celle è minore o uguale a k che è la la domanda che mi sto facendo cioè se esiste l'arco praticamente e se non l'ho già visitata quella cella allora dico che il potere arrivare in fondo è o ci posso già arrivare oppure ci posso arrivare in questo modo e alla fine se almeno uno delle quattro cose che adesso facciamo avrà dato true allora daremo true se invece tutto è andato false daremo false ok poi proviamo a spostarci in alto per spostarci in alto la riga deve essere maggiore di 0 la differenza assoluta tra m di raw col e m di raw-1 col deve essere così e questo è un raw-1 invece di col-1 in questo caso quindi chiamo la dfs su raw-1 ok quindi abbiamo fatto l'altro caso abbiamo solo cioè invece di fare meno 1 sulla col abbiamo fatto sulla raw ok no neanche vediamo se è così che gli piace di più ok così gli piace di più ora dobbiamo spostarci a destra per spostarci a destra vogliamo che col sia minore di rows meno perdono di cols meno 1 cioè vogliamo che ci sia almeno ancora una colonna a destra dove spostarci quindi questo qua diventa un più 1 questo diventa un più 1 e questo diventa un più 1 perfetto ultimo caso ok è quello dove dobbiamo spostarci in basso per spostarci in basso dobbiamo avere almeno ancora una riga in basso quindi raw deve essere minore di rows meno 1 questo diventa quindi un più 1 questo diventa un altro più 1 e questo diventa un altro più 1 e dovremmo aver finito quindi abbiamo fatto i 4 possibili spostamenti ovviamente solo se possiamo farlo con lo spostamento se no non lo facciamo se no non proseguiamo la visita in quella direzione e fuori abbiamo fatto la boundary search che chiama questa funzione qua di visita ok prima cosa vediamo se compila compila incoraggiante parla andare in loop infinito che è meno incoraggiante e mo si parte del solito caro vecchio buon debug ok allora vediamo intanto se va in loop infinito la boundary search o la dfs quindi cosa faccio provo a stampare low mid e high e vediamo se sta facendo un loop infinito la boundary search o la dfs ovviamente devo farlo dopo quello dichiarato se no non ha senso ok sta andando in loop la binary search ah perché è sbagliata la condizione non è ricordiamoci non è lo minore di high è lo più 1 minore di high perché il box deve essere da 2 non deve essere da 1 ok riproviamo 20 1 2 vediamo cosa diceva 20 1 2 parrebbe essere corretto quindi proviamo a mandarlo scarica input questa era escursione ok main escursione le risposte come vedete le da quasi istantaneamente salviamo l'output ok proviamo a mandarlo e vediamo cosa ci dice ok questo è il file di output caricato 27 su 27 e con questo tra l'altro in parecchio meno tempo di ieri oggi ci abbiamo messo tipo saranno sui 1 ora 10 1 ora 20 abbiamo completato 100% la gara territoriale del 2018 ok ci sono domande su qualcosa di quello che abbiamo fatto oggi no per me è tutto chiaro ok sì anche per me bene perfetto e allora per oggi abbiamo finito qui è